Presidente Bitonci, è necessario aprire le fabbriche il prima possibile ma il governo pare rimandare una promessa che aveva fatto, ovvero di fare un decreto per sbloccare questa situazione? C'è stato un gravissimo errore di fondo, questa situazione della riva acciaio è stata gestita malissimo da parte di questo governo. Adesso emerge il problema più grosso che è quello della centinaia di lavoratori che perdono il posto di lavoro. E proprio su questo ci sono anche delle soluzioni e gli ammendamenti da parte del nostro gruppo Lega Nord proprio qui al Senato. Ieri c'è stato un incontro tra i deputati e senatori della zona di Verona con i dipendenti, una giornata molto calda che ha avuto anche dei toni molto accesi. Zanonato aveva promesso un consiglio dei ministri urgente per parlare di questa questione, dimenticandosi che eletta in Canada e che quindi poi questo consiglio dei ministri non si è fatto e non verrà fatto neanche oggi. Allora noi diciamo al ministro dello sviluppo economico Zanonato che quando si gioca sulla pelle delle persone che perdono il posto di lavoro si deve avere almeno l'accortezza di cercare di essere corretti e dire le cose come stanno, non fare promesse da marinaio che poi non possono essere assolutamente attuate. Per cercare di sbloccare questa situazione la Lega Nord al Senato ha presentato un emendamento tramite il senatore Calderoli, di che cosa si tratta? È un emendamento che tende a salvaguardare soprattutto i dipendenti perché al di là della questione della proprietà e sappiamo quanto sia sbagliato andare a commissariare le aziende private, però la tutela dei lavoratori è la cosa principale quindi questo emendamento tende a tutelare quelli che sono i lavoratori insediati nell'azienda. Ok.